C'è una sola ragione politica degna di questo nome alla base dello scontro ormai deflagrato tra il consigliere regionale Maurizio Petracca e il presidente della provincia Rino Bonopane? In comune hanno il fatto di essere approdati al Partito Democratico per strade diverse. Il primo, fiutando l'aria, vi è arrivato dopo aver svuotato quel che restava della cassaforte demitiana, il secondo prendendo progressivamente le distanze dal suo padre putativo Angelo Antonio D'Agostino. Per usare la metafora calcistica sembravano i gemelli del gol del Partito Democratico. Petracca, con il sostegno del governatore De Luca, ha sbaraiato la vecchia guardia di via Tagliamento, rassegnatasi a sopravvivere con le mance del presidente della regione. Il secondo, per una favorevole congiunzione astrale e grazie alla sintonia con Petracca, è arrivato al Palazzo Caracciolo. Oggi i gemelli del gol non si passano più la palla. Tra i partiti e dentro i partiti la competizione e lo scontro sono compresi nel prezzo. Si lotta per contare di più e affermare così una linea politica e amministrativa piuttosto che un'altra. Tranne che contare di più, e per farne cosa, non si capisce quale linea differenzi Petracca da Bonopane. Tra l'altro sono entrambi ferventi se non Pasdaran De Lucchiani. Forse qui sta il problema. I raggi del governatore illuminano Petracca e solo qualche spanna arriva a Palazzo Caracciolo. Bonopane deve essersi chiesto se non ora quando. Prima ha politicizzato all'estremo con Petracca una postazione di secondo livello, riportando la provincia ad una barricata politicante. Su questa strada si è ritagliato occasioni, penso all'invenzione della multiutility, per mettersi improprio e per risalire i molti gradini che lo separano da Petracca. Petracca, che nel DNA conserva la massima democristiana, dagli amici mi guardi iddio, controlla, monitora e insieme al segretario provinciale prova intanto a mettergli contro i consiglieri provinciali del PD. Cosa tutto questo abbia a che fare con la politica, con i cittadini e con gli stessi elettori e iscritti al Partito Democratico è arduo da ricercare. Citando Totò, e la storiella di Pasquale resta la curiosità di vedere dove vogliono arrivare.